Per schiarire i capelli naturali, applichiamo su lunghezze e punte una miscela colore con ossidante di 10 volumi superiori a quelli necessari per raggiungere l'obiettivo. Iniziamo l'applicazione sempre dal settore posteriore. Prepariamo una nuova miscela con Framcolor 2001 e l'ossidante nei volumi corrispondenti all'obiettivo. Applichiamo sulle radici e lasciamo in posa 30 minuti. Grazie. 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 Grazie.